Per noi ovviamente è molto pesante. Ora, il governo però ha fatto una cosa buona per i comuni e noi lo ringraziamo perché ha detto se i comuni partecipano, diamo la possibilità ai comuni di partecipare alla lotta all'evasione. Sulla base di questa possibilità i comuni si tengano tutto ciò che deriva e questa è una forma di contrasto di interessi perché ovviamente il comune ha interesse diretto a fare la lotta. Ora però di che cosa c'è bisogno? Una volta che ci si dà questa possibilità di fare un tavolo, ma subito, cioè non appena passi ovviamente la manovra, in cui si dia ai comuni la possibilità di iniziare alcune sperimentazioni. Ad esempio una in cui io credo moltissima è proprio quella del contrasto di interessi, cioè far allegare alla dichiarazione dei redditi dei cittadini romani, ma come dei cittadini ovviamente degli altri paesi, le fatture in modo che loro possano scaricarle, scaricarle ovviamente alla loro dichiarazione dei redditi, deducibili nella dichiarazione dei redditi. Questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe che una volta accertata ovviamente la verità da parte del comune, il comune andrebbe a restituire una quota IRPEF, quindi il cittadino paga meno tasse e il cittadino ci guadagna. Il comune che cosa guadagna? Che tutta l'IVA al netto della quota IRPEF che deve ripagare rimane ai comuni e quindi noi ovviamente avremo dei soldi che ci vanno a compensare parte del taglio e il governo ci guadagna perché non deve dare i trasferimenti ai comuni. Quindi questo potrebbe essere una delle azioni sperimentali che si potrebbe concedere ai comuni, come ad esempio una sorta di bonus fiscale per il cittadino che una volta richiesta la fattura non gli fosse data dal fornitore di servizi o comunque dal commerciante o dal professionista, può fare una denuncia a quel punto accertato, non sta facendo la spia. No certo, non è delazione, salvaguarda i suoi interessi. Salvaguarda i suoi interessi, quindi è un contrasto di interessi perché io ho interessi affinché quella fattura mi venga fatta perché io la posso scaricare e pagare meno tasse e dall'altra parte noi abbiamo interesse che lui denunci questa situazione perché oggettivamente noi riusciamo ad avere più soldi e quindi finanziare i servizi pubblici. Lei sta mutuando il modello americano. Assolutamente. Lei sta mutuando il modello americano rapportato ovviamente a quello che poi possa essere una possibilità di applicazione nella nostra città. Infatti parliamo di sperimentazione perché ovviamente questo potrebbe essere fatto su alcuni settori, non tutti, se no potrebbe essere troppo oneroso ovviamente perché ci sono però dei settori che la guardia di finanza ovviamente ci dovrebbe indicare, o l'entrata ci dovrebbero indicare, dei settori a maggior rischio evasione. Allora magari una sperimentazione per i comuni su quei settori. Avete il coraggio di andare avanti una volta perché le spiego il coraggio politicamente parlando perché lei sa che si viene eletti in virtù di apparati, non uso il termine lobbistici perché in questo caso sarebbero un po' fuori luogo, però diciamo apparati di categorie, siamo già al punto, è inutile che io vada avanti. Guardi, io ho capito e c'è molta politica che si basa ovviamente su questo quindi lei ha ragione, io ovviamente però non posso esprimere ipotesi su altri perché sono io qui e parliamo io e lei. Io sono eletta dal popolo, cioè sono eletta dalla signora Maria Rossi e Giuseppina Bianchi, dai cittadini, i cittadini credo che esigano trasparenza, equilibrio, responsabilità, onestà e sicuramente un desiderio di pagare un pochino di meno da parte dei propri rappresentanti, cioè si gestisca bene la cosa pubblica. Oppure pagare ed essere assistiti che è anche un altro concetto. Pagare ed essere assistiti, quello assolutamente, però nel momento in cui loro riescono a capire, sono i cittadini che lavorando insieme alle amministrazioni possono comunque trattenere qualcosina in più, che comunque non è sufficiente con questa situazione che abbiamo, però arrivare magari con qualcosina in più a fine mese io sono sicura che tutti capiranno. E poi non ci sono lobby specifiche perché anche il professionista che magari non fa la fattura ad oggi, però sa che lui può chiedere a sua volta la fattura a qualcun altro, è un circolo virtuoso diventa. A quel punto tutti pagano e anche il professionista è lieto ovviamente di pagare la sua parte che fa bene al paese, ai servizi pubblici per ovviamente i cittadini, però a sua volta ha anche lui dei servizi pubblici. Certo, allora adesso noi abbiamo un obbligo di pubblicità che osserveremo, le chiedo, dopo noi abbiamo lo spazio di Vittorio Sgarbi, con il quale Vittorio Sgarbi ovviamente parliamo di tutto, parliamo di arte, ma parliamo soprattutto di cronaca, delle nefandezze della politica, del fango che piove ogni giorno sulla stessa, ma rappresentando lei un qualcosa nel quale sperare proprio come una svolta, non glielo dico per piageria, glielo dico perché abbiamo avuto modo di parlarne in questo modo anche in altre circostanze perché la seguiamo nel suo operare ed è un operare limpido e fattivo, quindi glielo dico perché è esattamente quello che pensiamo come emittente e come una cronaca al servizio di Roma e di quello che accade. Ecco, lei rappresenta unitamente dall'altra parte, potremmo pensare a un Renzi a Firenze, più che a un altro giovane, ad altri giovani politici tipo lei, che potrebbero dare veramente una svolta effettiva al nostro paese. Adesso noi con Vittorio Sgarbi analizziamo sempre in questo periodo tutto quello che è poi la posizione della maggioranza governativa, di chi la compone e Vittorio Sgarbi, pur essendo vicinissimo, lei lo sa molto bene, a Silvio Berlusconi, non si fa scudo della verità. Non se ne è mai fatto scudo. Non se ne è mai fatto, non se ne fa scudo e dice esattamente le cose come stanno, parlando di questi politici eccetera eccetera. Allora, adesso dopo la pubblicità, noi spenderemo, se lei è d'accordo, cinque minuti con lui, magari per fare una panoramica su quello che è lo sguardo ampio sulla politica italiana e quelli che possono essere dei riflessi. Sì, e posso chiedere poi una registrazione e trasmissione, tutti questi complimenti, io me li tengo per i momenti di lui, me li riascolto. Guardi, è esattamente la verità, mi creda, io ho pagato dei disagi. No, la faccio sentire a mia madre. No, appunto, ho pagato dei disagi perché vengo interpretato, etichettato come un narratore di parte, uno che è tutto spostato a sinistra. Questo lo fanno persone alle quali io posso essere antipatico, non so, per tutta una serie di cose eccetera eccetera. Io invece ho solo un intento, quello di raccontare le cose come stanno e quando sono sgradevoli bisogna raccontarle per quello che sono. Quindi quando le dicevo prima che noi la seguiamo, qui ci sono testimonianze anche registrate di quello che noi raccontiamo per quanto la riguarda, è sentito ed è una stima assolutamente pura.